28 gennaio 2024 siamo a robecco d'olio per la diciottesima giornata del campionato provinciale di lettanti di seconda categoria incontro tra robecco e corona di cremona in sovraimpressione si possono leggere le formazioni delle due squadre che si stanno per schierare in campo con la maglietta righe giallo rosse il corona e maglietta nera i ragazzi del robecco è partita la processione di ingresso poi non abbiamo ben capito perché sia improvvisamente rallentata e si vada a passo d'uomo speriamo che qualcuno ce lo spieghi ma questo è il dato di fatto no non è proprio questa la spiegazione che ci attendavamo ma comunque procediamo la giornata è particolarmente rigida il campo di calcio sembra in perfette condizioni e perfino stato pettinato per l'occasione e vedremo quali saranno i benefici di questa operazione di maquillage le due squadre si contendono il centro della classifica per ora sono entrambe nella pagina destra della classifica appunto e almeno il corona ambirebbe a collocarsi nella parte sinistra per cercare di scalare la classifica e noi diamo un'occhiata anche alle panchine come al solito quella del corona e poi quella del robecco che ci saluta come in ogni occasione e noi ricambiamo con l'augurio di una buona partita che al fischio dell'arbitro ha inizio in questo momento le 14 e 30 del 28 di gennaio 2024. Sesto minuto azione d'attacco del corona ciappei per Bernardi che allarga la palla per Ghilardi proveniente dalla destra pronto al cross Ghilardi il cross avviene ed è insidioso ma Franzela blocca a terra. Ottavo minuto punizione per il robecco tutti i giocatori in area colpisce di testa Gianluca Girelli la palla esce sui piedi di Diagne Fallou che controlla male poi si appoggia a Guardiani che gli ritorna il pallone deve affrontare l'avversario ed è Siena che gli si oppone non gli permette di fare il dribbling ma Fallou crossa lo stesso colpo di testa di Ghilardi ad allontanare il pallone sui piedi di Ferrari Alessandro che per tre volte tira in porta ed è a buon tempi che si tuffa e blocca tutto. Pirondi al centro del campo butta avanti un pallone ma Fornasari lo rimanda nella metà campo avversaria ed è controllata da Gianluca Girelli che lancia magnificamente sulla sinistra Diagne Fallou ancora le prese con Siena. Terzi verso un po' poi parte il cross per Gianluca Girelli Bellini non prende il pallone Drame tenta il tiro vincente ma la palla è altissima. 23esimo minuto la palla arriva in area per Gianluca Girelli che la controlla e poi offre il pallone a Drame Mohamed che scatta verso il fondo poi mette la palla in mezzo deviata Gianluca Girelli al volo tenta una girata che in verità diventa un'alzata oltre la traversa. 28esimo minuto siamo sulla fascia destra dell'attacco del Corona parte un cross per Ciappei che tira in porta la palla non va lontano dall'incrocio dei pali. 31esimo minuto corner per il Robecco la palla arriva in area colpisce l'Almawi e poi Gianluca Girelli alle prese con Bontempi ma che poi subisce il pallo da Ferrari Alessandro l'arbitro fischia. 40esimo minuto punizione per il Robecco finora è successo davvero poco in questa partita parte la punizione ancora usce Bontempi la palla viene allontanata dai difensori del Corona ma conquista la palla Fornasari e difende il pallone poi con l'aiuto di Ferrari Alessandro supera due avversari e riesce a fare un cross deviato Dramé Mohamed con un tiro sbilenco impegna Bontempi di pugno ma che subisce un fallo. E al 41esimo anche il Corona cerca di superare la linea centrale del campo per imbastire un'azione d'attacco sulla fascia destra dove procede il giocatore del Corona effettua un cross adesso respinge Caridi sui piedi di Amici che tenta il tiro al volo ancora Caridi e poi è Bernardi che tenta la stoccata finale che impenserisce Franzè ma va fuori e siamo giunti al 42esimo si combatte al centro del campo per il possesso della palla che arriva adesso sui piedi di Ciappei lanciato sulla sinistra dell'area del Robecco entra in area fronte a Ferrari Fabiano e poi tira un porta in tiro che si infila alle spalle di Franzè per il vantaggio insperato della squadra ospite che finora aveva attaccato davvero poco e praticamente nell'unica occasione del gol che il Robecco gli ha concesso la squadra del Corona è riuscita a portarsi in vantaggio al non spegnersi dal primo tempo e rivediamo la prodezza di Ciappei Mattia che entra in area affrontato dal capitano del Robecco che lo controlla poi gli si dà troppo spazio allora parte il tiro che si infila tra palo e paletto impossibile da prendere per Franzè e al 42esimo del primo tempo riprende la partita e il risultato è cambiato è in vantaggio la squadra del Corona per 1-0 e dopo il gol e i minuti di recupero concessi dall'arbitro nulla è successo la partita finisce almeno per quanto riguarda la prima parte sull'1-0 per il Corona e poi la partita finisce almeno per la prima parte sull'1-0 per il Corona